C'era una ragazza con la madre, ok? Quindi ho detto, ah, salve, ciao, gli ho tirato un po' in mezzo Sì, no, me lo dire, penso io Mi fate parlare un attimo Facciola Dovremmo dire un po' Ma c'è, sono un po' Non c'è una podcast Mondo Cash Eccoci qua, siamo qui Con un veterano Stavi dicendo una veterana Però puoi farlo Mi spiegheremo anche perché è una veterana Sono molto curioso Perché tu lo vedi così Intanto un benvenuto a Gordon Ciao a tutti ragazzi, grazie, è un piacere essere qua Tanto è anche per la prima volta che mi invitano a un podcast Quindi sono molto molto contento Che altro devo darti una bruttissima notizia Non so se dargliela già adesso Dopo essere stato a un podcast così Tutti gli altri Si parte dal migliore, se ne fa uno e basta Ma sai anche perché secondo me non sei mai stato a un podcast Perché la gente che ha qualcosa da dire Tendenzialmente non viene calcolata dalle persone che fanno podcast Purtroppo ha ragione lui Devo dire la verità Quindi abbiamo cose da dire oggi Sì, è una bella puntata È emozionante fare una puntata in cui ci sono argomenti Sì, dove te la vivi bene, capito? Se no si parla solo di gossip Quella che si scopa da tizio, si scopa da caio E poi, tante volte non lo dicono neanche E tante volte chiedono pure di tagliare le clip Incredibile comunque Assurdo, assurdo Pam 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 Non vuol dire che non ne parleremo comunque adesso Qualche domanda parte sempre Io la butto lì Andiamo avanti Una, perché una? Perché una? Partiamo di qua Yuri Esatto, tra l'altro Anche tu con la Y Sì, stesso Yuri Y Uno J, una Y No, no, no Y Ah, ok, ok No, perché c'è stato un problema Y Y Y Y Y Y Certo Scusate Io so che tu vuoi partire da così Però noi abbiamo un format Sì, una scarletta Ben chiara da rispetto Prima di mettermi in mezzo avevate un format No, però una sola domanda Noi abbiamo diritto Possiamo fare almeno quella Prego Perché se no poi lui non fa più domande Avrei una domanda Vai Eh, perché il podcast per colpa vostra è andato Partiamo sempre con una domanda Per avviare il nostro podcast Ovvero come nasce il personaggio Gordon Ok, bello Allora, il personaggio Gordon nasce circa Ormai dieci anni fa Da, semplicemente Visto che voi chiamate mondo cash Vi farò proprio quello che io racconto Alle persone che me lo chiedono quando ci vediamo Da un'analisi di mercato Io studiavo economia bancaria All'Università di Cocca di Milano E però in realtà volevo fare Eh, il content creator No influencer Che è una cosa È una distinzione di cui parleremo dopo E quindi ho detto Ok, ho provato a fare dei video all'inizio Quando ti butti in un mercato Provi, no? A copiare quello che c'è sul mercato Per vedere anche che cosa sai fare Cosa sei in grado di fare, no? Dopodiché Quando hai magari una mini base Devi iniziare a investire tempo Denaro, eccetera, eccetera Ma soprattutto devi avere un'idea Quindi mi sono messo lì Ho fatto uno studio di mercato Ho detto, ok, sul web Che cosa manca? Vi parlo ormai del 2013-14 Manche dei video sulle ragazze della mia età Che io all'epoca avevo 25 anni Mentre il web dell'epoca Era rivolto sopra a tutto E solo ai giovanissimi Perché c'era solo YouTube Mentre io ero su Facebook Quindi ho detto Dove sono le mie amiche? Dove è il mio pubblico? Che cosa manca ai video sulle ragazze Che non è il primo bacio La scuola Cosa mi vesto Ma è sesso, droga e rock'n'roll Letteralmente Quindi ho detto Ok, manca questa roba qui Ho comprato una parrucca E dopo il primo video Basta, subito È partito immediatamente Primo video virale Allora, ho fatto in un anno Di video su Facebook Quindi scopiazzando Un po' gli americani Provando varie cose Anche usando una finta parrucca Che in realtà è una specie di pinzone Con una ciocca Ho fatto 58.000 fan Più o meno Primo video serio Con la parrucca Col titolo Le ragazze quando E all'epoca era Le ragazze quando Fanno serata Tipo il primo Il giorno dopo Quindi 24 ore Avevo 400.000 fan Incredibile Ho preso praticamente Tutto a Milano Life changing Il piccolo Sì, ti spiego anche perché Il piccolo aneddoto È che io andavo a ballare Il Divina Che è il Vault Di adesso qua a Milano E quindi Quella sera lì Vado a ballare con il mio amico Avevo fatto il primo milione Di visualizzazioni in sei ore E dico Andiamo a ballare Stasera Io e te andiamo a ballare Però Andiamo a ballare dell'epoca Per noi Non era adesso invitato Magari tavolo Era Ci mettiamo in coda Come tutti quanti Ed entriamo Mi metto in coda Tranquillo C'erano delle ragazze Davanti a me La prima si gira Per guardarsi intorno Tipo sai Ti scambi uno sguardo Mi guarda Si gira Si rigira E fa Oh mio Dio Ma tu sei Gordon Basta Da quel momento lì Non sono mai più stato Iuri La sera stessa Del primo giorno Pazzesco Assurdo perché è stata una cosa Proprio studiata A tavolino Si si tutto era Non è stato un caso Il caso è stato che io abbia iniziato a fare video Perché comunque avevo un'età Che non lo permetteva Avevo 25 anni Ero in ritardo Molto Rispetto alla media Di chi magari inizia Sia adesso Ma anche all'epoca Anche se adesso è comunque più facile buttarsi Perché è già un lavoro All'epoca non lo era E si Quindi ho messo giù una strategia Dell'andare a colpire un pubblico Che non aveva nessuno Per quello la mia ascesa È stata velocissima Perché non avevo competitor Pazzesco come la maggior parte delle persone Che abbiamo portato a questo podcast Finora ci dicono La domanda è chiaramente Ma tu volevi farlo come lavoro È una cosa che è successa E tutti chiaramente ci dicono È successo Cioè sono partito Mettevo i video Poi man mano Sono diventato popolare Io lo volevo Cioè tu l'hai voluto Hai studiato L'hai applicato Ed è successo Sì perché io studiando economia bancaria Quindi avevo la formazione Del Proprio del business Cercare l'idea Il mercato La nicchia Come farlo Io guardavo l'America E in America c'era Vine Che è l'attuale TikTok Quindi non avete scoperto niente Voi che eravate su TikTok adesso Vine esisteva nel 2013 Con i Ravine Fatevi una cultura Prima di parlare di internet Che mi fa molto arrabbiare Esisteva già E su Vine Sono nati personaggi Tipo Logan Paul Ragazzi che fa l'attore Cioè potrei fare 20 nomi Logan Paul Perché quello lo conoscono tutti E da lì vedevo Sti ragazzetti di 18 anni All'epoca il Megcon Ok Che quello più famoso È Cameron Dallas Che adesso è sia attore Che Era fortissimo Gente che faceva i tour Quando in Italia Non è un lavoro ancora E ho detto Se ce la fanno loro Ce la posso fare anch'io Ho detto Siamo in ritardo Tennisamente di 5 anni Quindi 2014 2019 Ho detto io Quindi il 2019 Sarà un lavoro Il 2019 Io ero già strafamoso Ed era già un lavoro Da parecchi anni Quindi ci avevo preso Anche perché Prendendo quella nicchia Di ragazze Donne Comunque poi lui È stato realmente Ed è tuttora l'unico Che fa delle sponsor Questa roba è interessantissima Perché a me è sempre fatto impazzire Mirate soprattutto alle donne Come se fosse sponsorizzando una donna In realtà è un uomo Sì 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 Ha il bene Capito Sì il più famoso È stato un brand Di trucchi gigantesco Che aveva la mia foto Con la parrucca All'interno degli store Non c'era una modella C'ero io con la parrucca Si depilava Cioè Qual era quello Non ti parlo Non lo diciamo Avevo fatto Sì un brand Di detergente intimo Il più famoso Che mi pagò Per dire Che andava usato in doccia E non nella classica pulizia Che si fa E quindi ha detto Prendiamo te Perché sei il più influente In quel mondo lì E poi soprattutto Un'altra cosa Che voglio dire Visto che si parla sempre Di un mondo cash Non avevo competitor Perché Tu entri in un mercato Dove Tutti possono fare i video Però tu ricordati Che sei in Italia Quindi già c'è una barriera L'ingresso Che è Fare i video Non è un lavoro Se è un cazzone Due Paese misogeno Tre patriarcale Quindi fare la donna Vestirsi da donna Online Online È la cosa peggiore Che un uomo possa fare in Italia Quindi Sì ma neanche tanto Le mie fan li facevano a pezzi Quindi non era quello Però Era il fatto che Nessuno si sarebbe messo in gioco Talmente tanto Perché ovviamente Se è un gay Vai a travone Ti pare che ti vesti online Ti metti il rossetto Cioè Era impensabile Ed è tuttora impensabile Per gli uomini Capito Quindi quella roba Mette una barriera All'ingresso del mercato Che è stratosferica È come se uno oggi Volesse aprire un altro Amazon Cioè È impossibile Ci vuole un capitale gigantesco Ed era la stessa roba Fondamentalmente la stessa cosa Tu Non sei gay No Ok Perché chiaramente All'inizio Quando ero esploso Tutti me lo chiedevano Cioè Era proprio Come l'hai fatta tu Era All'epoca Era un po' più Nascosta la domanda Che cercavano Ma tu Cioè Ti piacciono gli oli Esatto Quindi no Sempre risposto Apertamente Cioè Non è un tabù Non deve essere assolutamente un tabù Dicevo No raga Mi piaceva la patata Quindi Ti piace tuttora Mi piace tuttora Mi assicuro che ti piace talmente Tanto che ha dato dei pali incredibili Nella sua vita Ma persone che non potreste mai pensare Andiamo subito a quella domanda Vai Che facciamo di solito Allora Secondo te La fama Fa scopare di più un botto raga Non avete idea quanto No ragazzi Allora Ma nel tuo caso che è un personaggio No Perché forse no No Allora Io Io mi piaccio come ragazzo Io Ho la mia self confidence So che puoi piacere Non puoi piacere Quando hai la fama raga Questa roba moltiplica per dieci Se hai anche un carattere Io diciamo Medio buono Questa roba è per cento Ok Io ho avuto un'educazione Da mia madre Molto Diciamo Fissata Quindi Le buone maniere L'educazione Quello e quell'altro Quindi io già arrivavo Un po' timido E con le buone maniere Insegnate dai miei genitori In più Ero famoso Quindi questa roba Era un cortocircuito Nelle tipe devastante Perché loro si aspettavano Lo stronzo famoso Vabbè dai lo scopiamo Invece no Io le trattavo Normale Cioè come se fossi io Il coglione E lei la famosa Sta roba le faceva impazzire Comunque se chi vi dice di no Sta mentendo raga C'è proprio Ci sono dei casi online Che fanno ridere Da quanto Prendono in giro Il mondo Femminile Dicendo no Vabbè Ma non è così Noi siamo Cazzate Quando sei giovane E sei ai primi anni Della tua fama Fai solo stronzate Perché è una roba Che non puoi capire Nessuno può capirlo Io non posso spiegarlo A loro quante volte vogliono Ma non l'hanno vissuto Quindi non riescono a capire Cosa ti scatta Per quanto io adesso sia Focus Ho dei valori e quant'altro Anch'io ho perso la testa Soldi Fama E tutte le ragazze Appena entrano in discoteca Volevano scopare con me Come fai a impazzire Devi avere dei valori Devi avere della gente Che mentre sali Ti tira giù Devi avere un buon manager Una buona agenzia Dei buoni amici Che ti dicono bro Meno Non sei Justin Bieber Sentiti Justin Bieber Ma molto meno Allora lì Torni Torni alla realtà Lui come l'ha fatto Cosa? Mi ha tirato giù In una situazione Lui l'ho preso a schiaffi Io l'ho conosciuto Nel suo primo momento Di vero hype Dove poi lui ha Un bel fisico Quindi lui nasce Anche proprio come Guardatemi sono bello Lui nasce proprio Con quella roba lì Quindi ancora di più Ed era venuto a Sanremo A fare tutto il fenomeno Io lo guardavo E lui però aveva Aveva nei miei confronti Questa sorta di fratellanza Cioè che Per quanto fosse un coglione Quello che dicevo io Era legge per lui Perché mi vedeva come Quello che ce l'aveva fatto Io l'ho sempre visto Come i Yuri Capito E allora un giorno Eravamo a Sanremo E gli dissi Guarda Tutto bello Quello che fai Non durerà Hai detto Sei di Justin Bieber Che ha fatto lo switch Teen Idol Grande ce n'è uno al mondo E ti voglio bene Non sei tu Gli ho detto Esci dal mondo Teen Idol Perché tra un po' C'è un altro ragazzino Più bello di te Più giovane Che ti surclassa E sarà E ciclica quella roba lì Come dicevamo prima Il Megcon Dell'inizio Erano cinque ragazzetti belli Hanno avuto il culo Di essere i primi Quindi è durata tre anni Oggi raga Vi posso fare i nomi Di dieci tiktoker belli Che sono spariti nel nulla Perché c'è il C'è il riciclo È veloce Poi devono vivere di gossip Devono scoparsi tra di loro Devono fare delle robe Che non hanno senso Webbo Che alimenta quella roba lì Giusto È un mondo così Vediamo Tra dieci anni Dove siete È questa cosa che dico Che dico a tutti Comunque lui è stato uno di quelli Che ho preso Ho detto Zio No Stai sbagliando tutto Lei ha circolato Di persone sbagliate È anche qualcuno Che ha fatto questa cosa con te Mia madre Mia madre Il mio ex manager I miei amici dell'epoca Sì sì Ho avuto Poi io già ero uno Che non voleva troppo montarsi la testa Ci stava cascando Mi sono fermato un pelo prima Quindi ho detto Ok no È una roba Cioè devo capire Che quando mi sveglio È Disneyland È come essere in GTRP Mi sveglio È un videogioco Ma non è la realtà Non è quella La vita di tutti i giorni Non sarà sempre così Infatti oggi Non è così È cambiato tutto ovviamente Quali sono i due o tre aneddoti Più eclatanti Che ti sono successi Nella carriera Nell'ambito proprio femminile Con donne Non so se ci sono successe cose particolari Ma allora cose particolari Con le donne succedono sempre Succedono a chiunque Figurati a me Che ho un pubblico di sole donne No Tornando appunto al discorso di prima Se è più facile È che noi andavamo A fare delle vacanze Tipo a Formentera Eravamo un gruppetto di influencer E lì ti accorgi realmente Che non è la vita normale Di tutti i giorni Dei ragazzi Cioè per i ragazzi I ragazzi arrivano E ti chiedono subito Quanto guadagni Quanto scopi Sono due domande Sec che poi vanno Di pari passo Perché se tu dici Quanto guadagni Ah migliaro La scopi un botto Dall'altra parte Però al contempo Hai questa sorta di Di apprezzamento Da tutte le ragazze Che però dopo un po' Cioè il problema È che quando una Ti conosce Che tu sei famoso Lei sa già cosa chiederti E ti chiederà Le stesse cose Delle cento ragazze prima Perché Gordon Come hai fatto Sei gay Non sei gay Fammi ridere Cioè ti dice quelle robe lì Quindi tu hai la decima ragazza Che conosci Non c'è più voglia Cioè letteralmente Non hai più voglia Quindi di aneddoti interessanti Ce ne sono tanti Però per rispetto Alla mia ragazza Che guarderà il podcast Non mi va Ah tu sei fidanzato Adesso sono fidanzato Non lo trovo carino Cioè non di questi Gli altri vi racconto Quanti ne volete No ve ne racconto uno Ecco ve ne racconto uno Ecco che Salve ciao Gli ho tirato un po' in mezzo Sì ma me lo dire Mi fate parlare Un attimo Poi ce l'ho fatto con la ragazza E all'epoca c'era anche Il mio tour manager E praticamente la mamma fa Vabbè ma Gordon Quanti anni hai tu No le faccio All'epoca ne avevo 28 E fa guarda Io ho 39 E mia figlia è 18 Così secca E faccio Vabbè quindi l'hai avuta giovane E lei mi fa Sì abbiamo tutti e due L'età del consenso L'hai fatto? No non l'ho fatto No non l'ho fatto Mi ha preso un po' in contropiede Poi non me la sentivo E non A parte che Questa è risposta E non sai che non mi ricordo Cioè mi ricordo solo Di aver tipo Balbettato Ho detto qualcosa Poi lì c'era tanta gente Quindi poi Il fotografo Il buttafuori Il tipo che ti deve riaccompagnare Ah sì va bene Ti scrivo Instagram Cazzate E poi santo via È troppo Per la mia immaginazione Una scena simile Sono successe tante Sono successe Sì Io penso che non sia vero Cioè che tu gli avessi detto i nomi No 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 Giuro giro Tante altre volte Ho detto di sì Mi ha messo il numero di telefono Quando venivano a fare le foto Mi ha messo il numero di telefono Dietro la tasca dei pantaloni E mi ha sussurrato all'orecchio Dopo scrivi C Che ci vediamo Io ho tirato fuori il bigliettino Scrivi C E ho detto E c'era il nome di tutti e due Con un numero di telefono però Chiaro Però io non l'ho fatto neanche in tempo a scrivere Perché di solito Quando si va a fare le date Poi c'è un autista Che ti riporta all'albergo L'ora erano già sotto l'albergo Perché quando vai in città piccole Le persone sanno già Qual è l'albergo Dove vanno Gli ospiti Diciamo E quindi non l'ho neanche scritto Quindi non l'ho neanche lui L'ho trovato E semplicemente lì Abbiamo chiacchierato E poi abbiamo fatto la nostra serata Di classe Questa chiusura No 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 Veramente Sempre di classe Elegantissima Elegantissima Per fare un attimo Invece un passo indietro Perché Ci sarà Immagino ci siano veramente Tipo mille aneddoti Super interessanti Così Quali sono stati Se li vogliamo anche riassumere Gli eventi più Importanti Che hanno segnato Il tuo percorso La tua carriera Ok Bella domanda Grazie Mi piace molto Allora Il primo è Primo di scrivere il primo video Ero a casa Delle amiche Della mia ex ragazza Dell'epoca E tutti i miei amici Erano in ritardo Perché erano alla partita Io non guardo il caccio Non sono un tanto fan Quindi io Mi ero accollato Le ragazze Quindi sono andato A casa di queste amiche E quindi io avevo davanti Il mio video che camminava Perché avevo Quella già pronta Quella che litigava col ragazzo Quella che si doveva cambiare Quella che si truccava E l'ho avuto lì Lì ho detto Eccolo Questo è quello che devo fare E sono tornato a casa E ho fatto le ragazze Prima di una serata E quello è esploso Quello è il primo video È il primo video Il lampo di genio Lì ho detto È questa roba qui L'altro Lo switch di Gordon È stato Le ragazze quando guidano Che fece 10 milioni Il primo giorno E mi diede proprio Il boost definitivo Da 800 mila A un milione E la consacrazione È stata Miss Italia Che io ho fatto L'unico uomo Che ha partecipato a Miss Italia Nella trasmissione Ci sono io Vestito da donna Alla finale di Miss Italia 2016 In mondo visione No mi hanno eliminato Dopo purtroppo Perché Hai partecipato Ho partecipato Ci sono io sul palco Sì È una cosa che Il mondo moderno Non sa Ma all'epoca di Facebook Sì ci sono io E subito dopo Feci il video Le ragazze al sushi Che fece 24 milioni Parlo di Facebook E la Repubblica Lo ripostò Sui loro schermi Di tutte le stazioni d'Italia E c'era il mio video Che andava Andava ciclico Spoiler Non ho guadagnato Un euro da questa roba Me la butto là Però all'epoca La gloria Contava molto di più Dei soldi Fama o soldi Soldi Tutta la vita Tutta la vita No prima di aver detto Fama Ad oggi Diresti Ad oggi soldi Come dice Gue è meglio Rich che famoso Tutta la vita Non c'è niente Come la La salute mentale Che ti possono dare I soldi Non sono tutto nella vita Ma sono importanti Sono importanti Io non voglio fare 200 milioni Io vorrei avere quelli Per non fare più un cazzo Stare con la mia ragazza E farmi i miei hobby Viaggi E mie startuppine Quello voglio fare Una cifra 10 milioni Quando hai 10 milioni Hai degli asset Di proprietà Ma cosa devi fare di più Io comunque ho 33 anni Quindi il conto di arrivarci Tra 10 anni Ne ho 43 Cosa devo fare di più Dopo che ne ho 200 Di milioni Cioè ho quelle lì Ma a mano mi tolgo gli sfizi Perché se no Io penso che avere 300 milioni E comprati subito Tutte le macchine che vuoi La macchina che vuoi L'elicottero Le cazzate Poi cosa fai Qual è il tuo obiettivo Mentre con 10 Non puoi comprati Una pagani zonda Che costa 2 milioni Perché comunque Il 20% su un'auto È un investimento Totalmente sbagliato Quindi dici Vabbè magari Li faccio fruttare Faccio degli investimenti Tra 8 anni Con gli investimenti Me la compro Quindi questa è la mia idea Che aiuta ad avere Comunque sempre qualcosa Da andare a ricercare Siamo tutti esterrefatti Troppi elementi intelligenti Troppi elementi intelligenti In questa volta Faccio io Quindi quando dici Che ci arrivi fra 10 anni Sì A che punto della via siamo No no Sono a meno di zero Purtroppo Perché la vita Mi ha bastonato E non poco Ma tipo Mi ha bastonato Che oggi Io ho via Meno di 50 mila euro Sì È onesto Stai dicendo la verità Ne ho fatti In questi anni Ho fatto più di un milione Sì Sì Secondo me più di un milione Sì siamo poco meno Sotto sotto un milione Tra tutto quello che ho fatto Ma ho 50 mila E non per colpa mia Cos'è successo La vita è imprevedibile La vita è piena di sorprese E già Gordon è stata per me Una sorpresa Perché io ho fatto 18 mila lavori Prima di fare Gordon Quindi avevo anche un po' l'etica Di dire Mi devo mettere sotto Spacco i culi Devo lavorare Cioè sì bello La fama Ok ma bisogna lavorare Non è una cazzata Ad esempio Piccolare dopo Vi racconto questo Uno dei video più Forti che ho fatto L'ho fatto dopo una serata In macchina Con il mio tour manager Avevamo dormito due ore Eravamo in tour Da dieci giorni So che può essere Disneyland Vi assicuro Che mentalmente È distruttivo Ok Poi ovvio Non si va a spaccare I mattoni In miniera Però dal punto di vista Mentale Il lavoro così È distruttivo Io ho registrato Il video in macchina Perché ero affamato Avevo fame Sapevo che quella roba lì Dovevo farla Infatti Fece il panico Tornando indietro Nel mio momento di apice Purtroppo la mia famiglia Si è trovata In una situazione disastrosa E se non ci fosse stato Gordon Oggi sarei Tendenzialmente In mezzo alla strada Quindi Diciamo che Per riassumere Che non voglio fare Neanche troppo Né pena Né parlare di cose brutte Gran parte Dei miei risparmi Sono andati Ad aiutare la mia famiglia A sistemarla Con quanto più possibile Secondo me Mi torneranno Quegli interessi Lo sai Spero che il debito carmico Mi torni indietro Più che altro È che Ho cercato di sistemare Una nave Che stava affondando Però ero giovane E l'idea Del aiuto I miei genitori Era molto forte In me Quindi c'è Coprivo una roba Che in realtà Andava fatta Affondare un attimo E poi salvato Il salvabile Non avevo L'istruzione finanziaria Per fare passi del genere La mia vita Era troppo veloce Per stare dietro A quella roba Perché nel mente Dovevo comunque fare Gordon Perché Gordon Aiutava a sistemare Quella situazione lì Poi Nel mentre Sistemo tutto 2020 Apro la mia agenzia viaggi Quindi dico Vai Ci sono Posto Covid E lì è stata L'ammazzata finale Mi sono ripreso Guarda Un anno fa Tra tutti Marasma Di soldi Covid Investimenti sbagliati Investimenti che non sono partiti E quant'altro È stato tosto Però ad oggi Sei tranquillo A livello di cash flow Hai detto Arriverò fra dieci anni Arriverò fra dieci anni Una sicurezza tale Sì Perché io so che ci arriverò So che ci arriverò Non so ancora bene Le modalità Ma io so Che ho le competenze E oggi La struttura Fisica E psicologica Per poterlo fare Mi spiego meglio Io sono stato Da tutte e tre le parti Sono stato Un bambino ricco Con i miei genitori Un bambino povero Sono stato Un ragazzo ricco E un ragazzo povero Quindi ho passato Tutte e quattro le fasi Ok E adesso so Quanto valgono Adesso prima di spenderli In troiateci Penso cento volte Ok Mentre con la prima Sartan discoteca Sono andato a comprarmi Sei paia di Jordan Subito È la prima cosa che ho fatto Perché non le avevo mai avute Quindi ho detto Cosa voglio Più di ogni altra cosa Voglio delle scarpe Ok Tanto perché nella mia testa Avevo già trenta date Quindi ho detto Vabbè ma mille euro Che cazzo me ne frega oggi Però Serve anche quello Serve anche un attimino Comprare quella roba lì Averne sei Di cui tu ce le ho ancora In armadio Mai usate Mai Quindi quando le guardo Io non le vendo Perché le guardo e dico Ok La regola dei dieci giorni Voglio una cosa Ci penso a dieci giorni Se al dieci giorno Sto smattando Forse la posso comprare Ecco Quindi no Non ho un cash flow Non ho delle situazioni Io ho appunto La mia agenzia viaggi Che mi ha permesso Di ancora aiutare La mia famiglia E mantenersi Ho Gordon Che sto cercando Di far ripartire Quanto più possibile Ho aperto un locale Adesso sui navigli Che però anche quello È una roba molto lunga E conto comunque Di fare un exit Come si chiama Il locale sui navigli Ghosting Che riprende molto Il mio mood Infatti ragazzi Se siete state ghostate Venite da noi Vi offriamo da bere Ci facciamo Un giorno così Eh sì certo Geniale Allora ti ma tutte quelle Che ho ghostate Se le ragazze vengono da me Mi fanno vedere Che sono state ghostate Mi fanno vedere Mi raccontano una storia interessante E io li offro da bere E poi adesso sto settando Anche una roba del genere Per fare delle mini interviste Per raccontarlo sui social Quindi fare un po' Tutte e due Se ti serve qualcuno Poi dietro Alle quinte Che se sono state ghostate Vogliono qualcuno Che non le ghosti Ok Caramba che sorpresa È qui per te Per carità Però se li troviamo Ma a distanza di Dieci anni da quando hai iniziato Ritrovarti al mattino Ad aprire i tuoi social Che ti sei costruito Con tanto impegno Ed edizione E vedere come sta andando Il popolo Il mondo social Che effetto ti fa? Allora io Cosa hai pensato? No ti voglio dare La risposta vera Perché non voglio Che Non voglio passare Come Minchia questo Si sente arrivato Ha spaccato tutto Io Odio tutto quello Che ho fatto E ti spiego perché Io ho la classica sindrome Del Non è mai abbastanza Cioè per me Io leggo 757 mila La gente dice Minchia frate Per me Io dico Bro C'è gente che ne ha 20 milioni Oh ma hai fatto di video Della madonna Normale Cioè se parliamo di me Per me non è mai abbastanza C'è sempre di più Però questa roba è anche Controproducente Perché non c'è mai Un arrivo così Cioè non c'è mai Un punto in cui dici Mi rilasso Quindi per quello Riconciliare la tua domanda Inutile pensare 300 milioni Penso a Qualcosa che Mi faccia stare bene Mentalmente Per poi Dedicarmi alle cose Che mi fanno stare ancora meglio Affetti Famiglia Fidanzate Cani E cazzate Ok Il problema di oggi Dei social è che Io non mi trovo Non mi trovo Non mi trovo Io con ste cazzo Di storie A raccontare Tutti i cazzi miei Faccio una fatica Della madonna Forse anche perché L'hai fatto Quando non lo faceva nessuno Sì però non è vero Ma non era un raccontare Oggi tu ti alzi Devi pubblicare Che cazzo Io non ho un cazzo Non ho un cazzo a dirvi A me spiace Non ho un cazzo a dirvi Io mi alzo Voglio farvi contenuti Non voglio dirti Come mi sento Cosa devo fare Io invece vedo Ste cazzo di influencer Che si alzano E ogni puttanata Di merda La pubblicano Mi spiace Non vi capisco Magari io Al pubblico medio Dice Però ci intrattiene Bravi Ok Io non lo so fare Quindi mi chiamo fuori Da quella roba là Quindi faccio solo contenuto Posto qualche storia Ogni tanto Ma proprio non mi piace Cioè è frivolo Non serve a niente È come vendere aria fritta Non è un contenuto Capito? No no È proprio un contenuto Esatto Questo delinea Quanto studio ci sia Dietro ad ogni tuo video Per quello Prima ti parlavo Di content creator E non influencer Un content creator È uno che Si sbatte Nonostante Possa piacerti Non piacerti Comunicazione Non comunicazione Ti fa ridere Non ti fa ridere È un Qualcuno Che almeno si sbatte Come gli attori Possono piacerti Non possono piacerti Ti fanno gli attori È il lavoro Tu puoi guardare O non guardare I film di Checco Zalone Ok A me fanno pisciare da ridere Non riesco a ridere A quelli di Pio Amedeo Ad esempio Non capisco quel tipo di ironia Non è che dico Sfigati Coglionate Lavorare Non la capisco Non lo guardo Guardo Checco Zalone 30 volte Mica mi fa pisciare da ridere Ok È la stessa cosa Nei content creator Nei content creator Devi avere un motivo Per alzarti al mattino Se no sei un influencer Sei uno che Oggi esiste Domani non si sa Vediamo Noi abbiamo intervistato Praticamente solo influencer Si vede molto la differenza Fra un influencer Come stavi dicendo Te un content creator E la capacità espositive In quello che ha da dire Ma Un'impronta diversa Ma presumo Io sono anche qua Perché mi avete dato la possibilità Di parlare E io Roba del genere Non posso dirle sul mio profilo Anche perché è un profilo ironico Sarebbe Cioè un cortocircuito Anche per chi mi segue Però magari I ragazzi che guardano Che dicono Mamma mia quel coglione Con le parrucche No ci sta Perché comunque Non siete il mio pubblico Magari oggi guardano questo Beh Però tutto sommato Non è proprio un coglione Mi sta sul cazzo Perché comunque Che è Cazzate Però magari Sa anche parlare Quindi questo Io lo chiamo contenuto Ok Io posso sedermi a qualsiasi tavolo Infatti io non gli ho chiesto Neanche le domande Quando lui mi ha detto Vieni Ma voi Niente Uno ho niente da scondere Due non vivo di gossip Tre sono aperto a tutto Perché il web deve funzionare così Trasparenza Etica E Ti mette in gioco Se no che cazzo Apriete social a fare Per fare le foto da fighi O da fighe Senso offesa Tu eri piccolo Quando hai iniziato Però oggi Esatto Oggi bravo Oggi no Però oggi Sei anche evoluto Io quelli che facevano i tiktoker E ti posso fare dieci nomi Che c'erano Nella mia agenzia Oggi dove sono Alcolisti Questo non lo so Però oggi non esistono più Eh Sì È così Io sono rimasto all'inizio Quando avete detto Uno o una Non abbiamo risposto A quella domanda Eh sì L'ha raccontato Ah ma intendevate Per la parrucchia Io alter ego Quella parrucchia Ma tu hai dato un nome Al tuo alter ego È Gordon Sita È Gordon Sita Aveva ancora economia bancaria Con i miei amici Vinci un concorso di Bloomberg Che è una nota piattaforma Alla cripto Per farvela molto più facile Per chi non lo sa Vinci il concorso di Bloomberg Nella mia università Con il mio socio Quindi quella sera Andammo a vedere Quella roba lì Quel film lì Che è il rifacimento Del famoso film Di Michael Douglas E per chi studiava economia E per chi studiava economia Cazzo la roba Cioè Bibbia È uscita quella roba E il comportamento Di Gordon Ghecco E come si vestiva Ero io all'università E quindi mi dicevo Sembri Gordon Sembri Gordon Nei l'ho misi Nel nome di Facebook Quindi Yuri Gordo Sterrore Quando dovetti aprire la pagina Ho detto Mi serve un suo Io non ho mai avuto Un soprannome nella mia vita Mai perché Yuri Yu Yu Oyu Cioè Il cognome Sterrore Quindi Grazie a Dio Nessuno l'ha mai usato Non ho mai avuto un soprannome L'ho sempre voluto Me l'hanno dato Ho detto Beh Gordon Ho detto E quindi Però prima di fare il video Con la parrucca Quindi era un nome Così a caso Mesi Gordon E poi Cioè È un cortocircuito Che mi fa ancora ridere oggi Sono due cose Che non c'entrano niente Però Questo vi insegna Che quando c'è l'idea Il nome fondamentalmente È influente Cioè Oggi ci sembrano tutti Tesla Facebook Amazon Potrei farti mille nomi Ok Che dici Beh è ovvio che è quello Invece non è ovvio un cazzo Perché quando ti trovi qui Con una startup E ci scriviamo un nome E ti sembra una merda In realtà devi capire Che il nome non serve un cazzo È l'idea sottostante Che fa tutto quanto Come lo è stata l'esimo per Gordon Domanda a Brucia Pella Vai Non vuoi rispondere Non c'è problema ovviamente Il mese in cui hai guadagnato Più soldi Il mese Proprio il mese Non me lo ricordo Ma Sono quasi sempre Gli inizi dell'anno Perché ci sono le campagne Marketing dell'anno dopo 2018 150k Tra una roba e l'altra Però parlo Ricevuti quel mese lì Ma spalmati ovviamente Per lavori di un anno Quindi un deal da 150k Più deal Messi insieme da 150k Ne hai ricevuti tutti Poi chiaramente da spalmati Esattamente Perché tu hai sempre lavorato Con brand grossi Eh sì Quasi sempre sì Perché quando ho iniziato io Non esistevano i brand piccoli Esistevano le multinazionali Quindi bisognava colpire Le balene grosse Non vendere le storie 500 euro Perché dire Lavoro sui social C'è stato un momento In cui hai guardato il tuo conto in banca E hai detto Sono ricco Sì Il giorno che ho letto 90k Sul mio conto corrente Dimenticandomi che dovevo pagare le tasse Commercialista vecchio Se stai ascoltando Io prima o poi ti farò causa Sappilo Io l'ho fatto Ma questa è un'altra storia Perché quell'anno Li guadagnai tanti soldi E Cioè sapevo che arrivavano le tasse Però ho detto Vabbè Ma tra una roba e l'altra In realtà avevo la partita IVA E quel Maledetto Non mi fece aprire la società Quindi io pagai L'anno dopo L'equivalente di 85.000 euro di tasse Solo per il 2016 Solo che Ricordatevi Tutti i problemi della mia famiglia Quindi tutto quello che io avevo Anche solo marginato E messo via Mi uscì per le tasse Quindi riparti da zero E vi assicuro che Fare un qualcosa Che non ha fatto nessuno In questo caso Diventare famosi Sbancare Eccetera eccetera Ma che può essere anche un'attività Un negozio Un qualcosa E da un giorno all'altro Per colpa di altri Non è colpa di miei genitori Però per varie colpe del destino Ti tolgono tutto E' sicuro che reggere un colpo così Non è semplice Per quello io ti dico So che ci arriverò ai 10 milioni Prima o poi Perché dopo poi col pilano Mi può battere più niente Posso metterci più tempo Posso Sbattermi di più Potrò ancora rimanere lì 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 Per un po' Non potrò aver comprato Una macchina bella Il viaggio bello Eccetera eccetera Ma io ho le idee Dalla mia parte E finché ho quelle Finché ho quelle Posso stare tranquillo Prima o poi Una delle idee Partirà Non ho mai pensato di Andare all'estero Per l'occasione tasse Potendolo fare Sì ci ho pensato E' più lo sbattimento Che altro A me fare queste fughe Da Alcatraz Furbi Chi è riuscito a farlo Però io vi dirò Un'altra roba Che qui mi faccio le seghe Quando lo dico A qualcuno che mi dice Io vivo a Malta Se ce la fai a Milano Se ce la fai a Milano No no ma bravi voi Se ce la fate Che siete giovani Bravi voi Però io dico Quelli che arrivano E me lo sbattono in faccia Come se io fossi un coglione E' quello il discorso Se tu me lo dici Dici io sono riuscito A fare sta roba Io ti dico Bravo cazzo Ce l'hai fatta Famiglia Roba Gordon Come cazzo faccio Ad andare all'estero Invece io quelli Che mi fanno passare Per coglione Perché io vivo qua Allora ti dico Testa di cazzo Prova a vivere a Milano Se ce la fai a Milano Allora poi Bravo tu Perché ce la fai dappertutto Tra tasse Vita Lifestyle E scala sociale Ce la fai A Malta zio Non ti conosce nessuno Cioè esci di casa Sei uno che non paga le tasse Bravo Bravo perché riesci a essere Più furbo degli altri Ma Cosa cos'è Cioè qual è il tuo valore raggiunto Semplicemente che Hai preso E' come barrare E' come usare un trucco E andare di là Ok bravi Tutti i grandi imprenditori Lo fanno Puttanate I grandi imprenditori Hanno cambiato il mondo Amazon Facebook Ma hanno cambiato il mondo Tu sei solo uno stronzo Che vuoi usare i soldi Per altre cose Ma ti dico Bravo sono scelte Ma non mi devi far passare Per coglioni a me Cioè a me è quello Che da fastidio Cioè tu piuttosto dimmi Cazzo zio Dovresti venire qua Perché così sai Holding tasse Riesci a pagare il giusto Sparo ok Che poi le tasse Sono sempre un argomento Un po' ostico Però quando provi a farmi passare Per coglione Perché io sono ancora qua E lì mi incazzo Sì secondo me E' solo questione di scelte Cioè allo stesso tempo A me fa imbestialire Io vivo a Dubai A me fa imbestialire Quando qualcuno mi dice Ah tu vai lì Per non pagare le tasse Sei un truffatore No questo è sbagliato Allo stesso modo Sto rosicando Nei tuoi confronti Bravo C'è una scelta intelligente Bravissimo Esatto Quindi io non ti dico Cazzo Che coglione Questo qua vive a due Per evadere le tasse No ti dico bravo E fortunato Che tu hai potuto fare il passo Per andare là Sei furbo Sei intelligente E ti dico Cazzo grande Sei sgamato Però se tu invece Vieni a dire Ah coglione Vedi se tu facevi Gordon Avessi fatto a Dubai Non pagavi le tasse E lì mi cazzo Non sei un cazzo Non sei un cazzo Stai zitto Perché io ce la sto facendo A Milano Che è la cosa In Italia Che è la cosa più difficile Al mondo Se io vengo a Dubai Ti asfalto C'è quello che a me Da fastidio Capito Quando mi cercano Di far passare Tutti quelli che non l'hanno Fatto per coglioni No C'è come se quello Che comprò i bitcoin Quello lì Il signore di colore Che faceva i video Dicendo raga Compratelo E a 10 centesimi Anziché fare qui i video Diceva Brutti coglioni Ve l'avevo detto Sfigati pezzetti Guardate Non dice così Non dice così Non dice quello lui Dice raga Dovevate farlo Quindi adesso Mi insegno come farlo E allora è un altro E allora mi arriva In modo diverso Capito Perché io so E dico cazzo Però potrei andare Ci ho pensato Mica sono stupido Cazzo Chi è che non lo farebbe Chi guadagna soldi E soprattutto l'imprenditore Ok Che quindi Lavora in proprio Sa che Cuno bisogna farsi Io ti dico Cazzo bravo Quante volte Ci ho pensato Prendo vado Avevo via due soldi Vado E poi parto Tu hai detto Figurati con quei miei incassi A Dubai Allo 0% di tasse Cioè raga Festa grande Ci ho pensato Poi Famiglia Affetti Documenti Tour Orari Ho detto Come faccio Cioè il mio lavoro È difficile farlo Dall'altra parte Soprattutto con i fusi orari Capito Con gli algoritmi Che lavorano sul paese Dove sei Quindi in Arabia Saudita In questo caso Difficile Però Dubai è molto comodo Perché tre ore avanti Sì però prova a uscire A Dubai con la parrucca Poi ne ripartiamo Mi arrestano Quindi per quello dico Bravo tu Anzi quanti anni hai tu? 23 Sei giovanissimo Cazzo bravo Io ti stimo Perché tu non mi fai Passare per coglioni Io ti dico Vai spicca il volo Perché è così che dovremmo fare Tra noi giovani Soprattutto Io ho dieci anni più di te Ok Però ti dico Cazzo vai bravo Beato te Cioè se fosse stata questa roba Quando ho iniziato io E potevo farla Bro L'avrei fatto Piuttosto che pagare Il 75% di tasse Il primo anno E più l'anticipo Iva dell'anno dopo E sei furbo Tu però Tu non mi fai passare Per il ritardato Che è rimasto qua Ci mancherebbe Capito? E allora ti dico bravo Vi dico bravi Chi ce la fa? Invece fuffaguro Che mi dicono Io non capisco Chi vive a Milano Zio A Milano uno c'è lifestyle C'è gente C'è contatti C'è quella roba lì Tu sei rinchiuso Nella tua tana dorata E sei lì e basta E non esci C'è nessuno Ti conosce fuori Dalla tua rete Quindi non farmi passare Per quello che non sono a me Quella roba lì Che mi fa incazzare Quindi scusate Se ho alzato i toni Ma è una roba Che proprio mi fa Mi fa imbestialire Perché dico C'è No Non devi Non devi dare questo messaggio Perché se no Già l'italiano è invidioso Di per sé Siamo schiacciate Abbiamo tanta roba A livello di haters Negli anni Com'è andato? Allora beh Paradossalmente Una marea Ovviamente Però ti dico Su internet Pochi Perché io avevo Un'interazione talmente alta Che le mie fan Li massacravano Cioè non facevo Neanche in tempo A rispondergli A qualcuno che provava A parte che poi Non mi scrivevano D'altro canto Invece Alle serate E alle serate Li ho rischiate Un botto di volte Cioè Volevano ammazzarmi Di botte Mi odiavano Cioè sembrava Che gli avessi scopato La mamma Te lo giuro Una roba vergognosa Però Che poi di qualcuno Sarà successo Diciamolo Amore non ascoltare Sta giocando Cioè erano Incattiviti Tant'è che Se vuoi Degli altri aneddoti Ne ho due in particolare Una volta Uno Un gruppetto Continuava a dire Scemo 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 Perché E loro non si rendono conto Che io ho il microfono In mano Il microfono È come una pistola È un'arma potentissima Tu puoi dire Scemo Io Gli ho fatti finire Ho fatto abbassare la musica Ma scusami Ma Voi quattro Coglioni Cioè Vi ho portato Trecento ragazzi E stai assoluto Dov'è Siete dei coglioni Hai pure pagato Coglioni Non ti dico La discoteca Si è girata Ah babbini Ti hanno insultato Questi si sono offesi Poi è un macello Invece la cosa peggiore È successa Dove cazzo ero Verso Cattolica Una serata Dei ragazzi Mi hanno insultato Tutta la sera Un macello Ci sono dovuto chiamare I buttafuori Perché erano venuti Fino sotto il palco Quindi stavano Disturbando parecchio E li hanno buttati fuori Questi mi hanno aspettato fuori Il problema È che quando tu sei ospite Di una serata La security Lavora per te Cioè Devono proteggere L'ospite Io non sono un cazzo di nessuno Però vi dico Parlo di ospiti grossi Magari anche DJ Il buttafuori Non è che Perché questa roba È un secondo Che uno arriva Ti spara Ti accoltella Quindi Non è mai troppo Nel mio caso no Però questi mi stanno aspettando In otto fuori Io faccio per uscire Il buttafuori Che ovviamente Lo fa di lavoro Li vede È mica scemo Quello aveva già capito tutto Ha chiamato tutti gli altri Non ti dico Gli hanno lasciati tutti otto per terra Quella sera lì Tutti otto Io non ho fatto neanche in tempo A rendermi conto Cioè Quando poi litigavano Da per terra Che li prendevano E dicevano Ne vale la pena Coglione Che io domani vado a fare la mia vita Tu sei ancora qua Ma domani con le Tutto rotto Cioè voi siete usciti Tipo tutti i bodyguard attorno No No Ce ne avevo due davanti E poi gli altri erano tutti dietro E sono più furbi di quelli là I bodyguard Quindi hanno aspettato a uscire Appena questi sono partiti Che quindi avevano Le scamotage Per dire Sono partiti loro Ok Gli hanno spin Spintonati Qualcuno aveva dato A dare i cazzotti Gli hanno atterrati Gli hanno messi tutti Il loro posto 20 contro 8 L'horror noto Contro 1 Quindi Andava bene Gli hanno risistemati Perché Non erano proprio Belle facce Anche Quindi poteva anche scapparci Qualcosa di grave Però sì Questo succedeva All'ordine del giorno A Milano Mai avuto i problemi? Sai che a Milano Tutti quelli che dicono Milano Io la penso Come te Su quello Milano Allora sì Ovviamente È una situazione drammatica Ma raga Ci stanno alcune zone In cui non si devono andare Cioè se tu mi dici Eh sono andato In via Gola Sui Naviglia Alle 3 del mattino Mi hanno rapinato O sono andata O sono andata Ti dico Cioè Come io Che giro il mondo E mi dicono Non vado a informarmi Sui quartieri In cui non andare Cioè Se è una follia In Giordania La guida Mi diceva ad esempio Guarda in quella via lì Non passare mai stasera Perché è pieno di È come se io poi la sera vado Dico Eh minchia in Giordania Però sono terzo mondo No Mi hanno avvisato Ce lo sai Al di là che comunque La situazione di Milano è grave Vabbè comunque non è questo Il livello di Dove parlarne Ai tempi Non lo so perché ad oggi Maggioruturo non faccio più serate In discoteca No Ai tempi Quanto si pagava Un'ospitata in discoteca? Allora Ai tempi Conta che Sono partito dai mille euro Con spese comprese Quindi giusto per vedere Solo che io poi ho spaccato subito Perché tornando al fattore di prima Avevo solo le ragazze Quindi portavo anche un bel pubblico Quindi poi dopo le prime tre Sera quattro serate Quindi che le discoteche Parlavano tra di loro Dicevano minchia Gordon ha spaccato Ha portato questo Questo e quest'altro E ovviamente Va di pari passo Sono arrivato al massimo A tremila più spese Cioè tremila a me Poi non so quanto vendesse L'agenzia O quanto comunque Fossero i costi L'agenzia Eh sì C'è un booker Che lavora per te E chiama tutte le discoteche E ti setta il tour Conta che io partivo a gennaio E sapevo già dove andavo Il 28 giugno Sparo E avevo tutte le serate Programmate A volte anche doppie triple 3.000 euro serata Sì Circa sì Quando andava bene sì Se no se facevi le doppie e le triple La prima era quella che pagava meno L'ultima era quella che pagava di più Perché la prima Devi fare in un orario Cioè devi fare tipo le 22 Poi devi essere a mezzanotte E poi quando le discoteche piena Le due e mezza Tre del mattino Quindi quella è quella che devi pagare di più Perché ovviamente È più sbattimento È orario E eccetera eccetera Quindi di solito Se riusciamo a farne anche Sì Le triple le facevi quasi sempre in estate Cioè magari c'era tutta la settimana Della fine delle scuole Che facevi tre 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 Tutti i giorni Ti fai anche 6-7 mila euro serata Sì abbondanti Sì 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 Per quello ti dico Lì all'epoca girava bene Poi sono arrivati i trapper I trapper che Giustamente è un'altra È un'altra concezione di Di contenuto Cioè loro bastava fare una canzone E diventavano famosissimi in Italia Solo che quando tu esci poi con una canzone L'industria musicale ragioneva in un altro modo Il tipo non esce a duemila euro Il tipo esce a tipo diecimila No? Perché è il momento di hype Quindi quella roba lì distrugge le discoteche Perché anziché fare tre youtuber al mese Da tre 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 Faceva il trapper Che quel mese faceva Chiedeva 10k Sparo no? Poi da lì sono esplosi tutti Nel classe 2016 Erano in 33 Anche se non sono venuti fuori Tutti quelli che sono famosi adesso Quindi dieci uno Dieci l'altro Quindici Dorici Le discoteche magari più piccoline Ti parlo Quindi in giro per l'Italia Non avevano così tanto budget Per fare anche gli youtuber Quindi quel mondo lì è finito Sono stato l'ultimo io a fare le sette in discoteca E l'unico a fare il tour in Italia Tra l'altro Sì adesso c'è qualche tiktoker Ma sì ma è una roba che vanno lì Fanno due cazzate Io facevo uno spettacolo Io ho tre dischi con Sony Cioè abbiamo fatto una roba Lavorativa Per tornare al mondo Cioè ecco Non andavo lì a far vedere Quanto sono figo Grande A flexare Ho creato uno spettacolo Per cui la gente che veniva Non aveva un coglione sul palco Che era lì per le tipe Eccetera Io mettevo la musica Le facevo ballare Provavo a farli limonare Poi ho fatto il mio primo disco Si sboccia poveri Che era una frase Che io dissi in un mio video Quindi da lì Avevo questa cassa dritta Al pagante Fondamentalmente L'idea era quella Perché non ero cantante Dovevo fare la roba più facile Quindi in quattro quarti Che sa fare chiunque Però dare un Che poi noi lo chiamavamo Video musicale Contenuto musicale Non canzone Proprio per evitare Che la gente pensasse Questo vuole fare il cantante Era una roba Che io ti facevo Se venivi a trovarmi In discoteca Oltre a vedermi Avevi anche questa roba qua Che quindi era questo spettacolo Nei 45 minuti Un'ora Quando la serata Era bella calda E quindi almeno La gente era anche Più invogliata Dall'avvicinarsi A un content creator In questo caso E non il pirla Che va in discoteca Senza non togliere Tittoker di oggi Che godete Ora siete giovani È un altro mondo Però all'epoca Per fare il tour E anche questa era l'idea Gli altri vanno E fanno Ciao sì Viva i maschi Viva le femmine Andiamo alle foto Se noi creiamo invece Una struttura Ci chiamano più volte Motivo per cui Gli altri facevano I mesi estivi Io facevo tutto l'anno E l'ho fatto per quattro anni Per tornare al discorso di prima Che abbiamo un po' aperto Però parzialmente Tu ora ti sei fermato Comunque hai rallentato Con il personaggio Gordon Allora Si è rallentato da solo Fondamentalmente Perché Come raccontavo appunto Anche prima Il covid Poi avevo aperto Agenzia Viaggi Si è cavallato Tutto un po' tutto E un po' Quando hai problemi finanziari Un lavoro artistico Difficilino Difficilino da fare Anch'io volevo Trasferirmi all'estero Ho detto Adesso prendo Faccio Faccio altro Poi mi sono accorto Che non è troppo Il mio mondo E O meglio Non va fatto In quella circostanza È come quando ti dicono Di non Di non promettere Quando sei felice E di non Dire Esatto Quando sei Quando sei incazzato Esatto Ero in quella situazione lì E quindi Ha rallentato Di pari passo Da solo Quest'anno L'ho ripreso in mano All'inizio dell'anno scorso Ho detto che basta Tanto Peggio di così Ormai Tutti i colpi li hai incassati Adesso ti puoi alzare E rifarlo da capo Ho detto Vabbè Quindi sarò l'unico Nella storia A cadere Rialzarsi E rifare da capo Una roba su internet Quindi ho detto È anche una storia Quindi magari tra altri 5 anni L'ho riraccontato In un altro podcast Dicendo Ah si sono caduto Ero famoso nel 2016 Poi normale Poi ho fatto un'altra botta Perché comunque adesso Cioè per far ripartire Un personaggio come il mio Ci vuole una botta Che vuol dire Grande fratello Gossip giganteschi O l'idea veramente del secolo Ma posso dire Secondo me Non è vero Dici? Sai perché ti dico questo Eh però ci vuole un'idea Comunque Un format di Gordon Rimodulato su TikTok Secondo me Una cosa che è andata anni fa Come le mode che poi ritornano Negli anni Anche la vita di persone Che inizia 10 anni fa Ritorneranno Con lo stesso contenuto 99% Sì però Con una comunicazione diversa Perché oggi è più veloce Leggermente diversa Vai su TikTok No sono d'accordo Esatto Quello sto dicendo Sto cercando di fare Questo cambiamento Che però per me è difficile Perché io ho un pubblico grande Il pubblico grande Non è ancora Totalmente abituato Ai 10 secondi Perché io ho ancora gente Che mi scrive su Facebook E mi dice Perché non fai video su Facebook Da 3 minuti? 3 minuti Oggi 3 minuti Neanche le scopate Durano 3 minuti Ragazzi Ma che cazzo è? Pensare di prendere I tuoi video E andare a ripubblicarli Su TikTok Tramite contenuto verticale P1, P2, P3 C'è parte 1, parte 2, parte 3 Eccetera eccetera Secondo me quella roba È bellissimo Sei fortissimo Con queste idee Io sto risettando No no è vero è vero Perché sono tutte cose Che mi sono detto anch'io E sto Io sono nel Adesso nella mia testa Sono nel marasma più totale Cioè devo ricominciare E quindi mi sono Per la prima volta Dopo 3 anni Rimesso lì A riscrivere i video Da capo Come nel 2013 Quando non ero Gordon Quindi mi sto segnando Tutte le robe da fare Solo che il problema Che adesso sono 33 anni Un'altra testa Un'altra testa La mia fidanzata Convivo Due o tre business Che sto facendo avviare La mia agenzia di viaggio Quindi il tempo non è più Devo fare solo questo Devo fare tante altre cose Quindi man mano Sto facendo però È una delle cose Che sono da puntare Ripubblicare le video vecchie Che nessuno ha ancora visto Quando ti raccontavo prima Delle robe Tu non lo sapevi neanche Di Miss Italia ad esempio Capito Quindi ripubblicare Eccola roba lì E nel contempo Sfruttare nuove idee Di marketing Di condivisione Di comunicazione Del mondo femminile Di oggi Che è cambiato Completamente Rispetto a sei anni fa È come per un'azienda Fondamentalmente Devi rinnovare Come la Ferrero Che fa I suoi capostipite Che sono quelli Che mangiamo tutti E poi ogni tanto Ti butta fuori l'idea Come quando però Poi butta fuori Nutella biscuit Che erano un'idea Proviamo Hanno spaccato Gli antenuti E quindi è lo stesso principio Io so cosa funziona Ma per ritornare Ai livelli Come vorrei Devo Io non voglio fare Ne gossip Ne televisione Perché non mi piace Troppo E poi secondo me È una roba passeggera Sto cercando Di essere solo Focus su Gordon Per avere ancora Quella scintilla Che mi fa dire Cazzo Sta roba manca E rifare quindi Così un altro Step successivo Per diventare Per diventare di nuovo Famoso Al pari di prima O più di prima Non è famoso È che l'interazione Come quella Che avevo prima Perché oggi 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 c'è tanta Tanta roba Su internet Quindi c'è anche Tanta concorrenza La gente è satura Dopo il covid Ne hanno comunque Piene le palle Quindi tornare Un attimino A far rivivere Gordon Agli albori Cioè adesso esiste La gente mi segue Tutto Bella lì c'ho il mio range Però vorrei Innalzarlo Capito Cioè vorrei Arrivare a fare Campagne ancora Più grosse Non vorrei fare Televisione Ma vorrei fare Come fa Roazzi Che fa la pubblicità Della panda Ecco quella roba lì Per me è un punto d'arrivo È una delle mie idee Che ho scritto Nei miei obiettivi Fare una pubblicità Che sia Qualsiasi roba Anche con la parrucca Però Inerente comunque Quello che fa Gordon Questa sarebbe un po' Uno degli obiettivi Ad esempio Tra appunto A riacquisire Questo tipo di fama Questo tipo di seguito E avere successo Invece con le tue attività Che non c'entrano niente Con Gordon Cosa preferiresti ora? A avere successo Con le attività E abbandonare completamente Se dovessi essere Io lo dico anche qua Quello lo dico a tutti i miei amici Se io vincessi Domani il supernallotto Farei i video No ma chiusi Forse Forse andrebbero a chiudersi O forse Cioè ci sono due strade O Quella roba ti dà Una serenità talmente Elevata Che quindi Comincio a fare dei video Cioè a cazzo di cane Perché hai quella libertà mentale Oppure chiudo tutto E qui c'è una cosa Molto importante da dire Che io mi sono sempre chiesto Perché allora Non rifai i video Con quella Cioè fai finta Di averli già No? Fai Cioè in modo che Perché faresti i video Se fossi ricco? È stupido da dire Uno che sta ascoltando E uno che sta ascoltando Dice Che cazzo sta dicendo? Perché non li fai adesso? Non è sta cosa Perché davanti alla telecamera Non puoi mentire Quando fai il creator Cioè L'emozione O anche solo la Spensieratezza Arriva Io li vedo i miei video vecchi E li sto riguardando Il loop fino al vomito Per dire Cosa che manca Cosa che manca E io so cosa manca E li sto scrivendo Tutte quelle cose lì E mi accorgo Che nei video di oggi Manca quella Spensieratezza Perché sono appesantito Da X robie che sono successe Capito Mentre Una grossa vincita Che ti sistema la vita Se ti dicessero Un euro Per ogni follower Che hai Però non fai mai più Gordon No Non è È controproducente È come dire Un milione di euro oggi O un penny all'infinito No però potresti magari Concentrarti solo sull'attività Con un budget più importante Non lo so Gordon comunque È un po' la mia creatura Cioè O mi dai una cifra Per cui posso iniziare A fare un Gordon Quanto sarà 5 milioni No 5 milioni La metà 5 milioni Compro casa ai miei Casa a me Investo qualcosa È la serenità per fare video Basta No ma anche se chiudo Gordon Sì sì ma non posso più fare video Non posso più fare video Mi metto a fare qualcos'altro Però sono sereno Cioè Un po' È quella cifra Che anche solo di rendita Posso stare a casa Inventarmi Ma anche andare a lavorare Anche andare a lavorare Fra quei lavori Che non ho mai fatto Tipo Prova pasticcere Prova giardiniere Vai a fare quella roba lì Vivi Vivi Perché hai Cioè il problema di oggi È che Cazzo stiamo rincorrendo i soldi Cioè in un modo o nell'altro Che tu sia povero Che tu sia ricco Rincorri solo i soldi Dimenticandoci di vivere Io sono in questo limbo Tra Voglio fare un sacco di soldi E ritirare la mia vita privata Jordan Belfort E Minchia sono un artista Voglio spaccare E dare qualcosa alle persone Sono lì in mezzo Perché ho l'età Che collima Esattamente con tutte e due le cose E mi accorgo che È logorante È veramente logorante Perché i soldi Sì sono importanti Sono Una roba che Nel mondo di oggi Purtroppo Ti aiutano Ma non sono tutto Perché poi potrei averli Ma non essere più felice Come prima Quindi è quello che cerco Di dirmi sempre io Ma con dieci milioni Sarei felice? Probabilmente sì Però Se dovessi chiudere Gordon Come mi state proponendo voi Secondo me Nel lungo periodo Sarei triste Perché poi Non sarei più me stesso Cioè non avrei più Quella Ma non lo so Sarei spensierato Sarei senza problemi Però al conto di voi Mancherà più qualcosa Quindi da una parte All'altra Manca sempre qualcosa Bisogna trovare un equilibrio Secondo me Tu fai bene che sei giovane Voi che siete giovani A fare tutto Vabbè lui è appena entrato Voi vi vedo già un po' più Un po' più sul pezzo Lui ci sta arrivando Ma mano ci arriverà Adesso che ci conosce Voi vi vedo belli settati Comunque vedi tre anni Giovani Podcast Sparrate tu vivi già a Dubai Anche lui viviamo insieme E no infatti dico Spingete Spingete adesso Perché è adesso l'età In cui avete L'idea di fare tutto Il fisico La testa Andate Poi dopo un po' Tanto capirete Perché se riesci a farlo prima Siete fortunati A mettermi in quelle condizioni Capirete quando è il momento Di fermarsi O di giostrare Nella maniera giusta E non solo vivere Per lavorare Ok E' questo che vorrei far passare A quelli che magari Anche i ragazzini Che ci seguono Che vi seguono Bello Idee Fantastico Tutto Ma quello che vedete Non è tutto Cioè I fuffaguro Che vi dicono Minchia Non devi dormire Devi scriverti le robe Puttanate O meglio Dovete prendere Quello che A voi serve Cioè Non è che se tu Non scrivi le robe Al mattino Su un foglio di carta Sei un coglione Cioè Ognuno ha il suo metodo Lui avrà il suo metodo Lui ha il suo metodo Io ho il mio metodo Dovete Mettervi Lui non ha mettervi Foto in costume Quindi cercare di avere Un proprio obiettivo E costruirsi nel tempo da soli Quindi prendere il bello Che ti dà il web E non sentirti Appesantito Perché non hai soldi Non hai una bella macchina Non hai una bella figa Non vivi a Dubai Eccetera Città Lui bravo che vive a Dubai Non è che io lo invidio Perché vive a Dubai Bravo E gli dico Minchia grande Stai spaccando L'italiano ti dice Pezzo di merda E vedi le tasse E anziché Quindi io cerco di tirare giù te Anziché levarmi io E dico Cazzo Lui vive a Dubai Finito questo podcast Magari gli chiederò Zio Ma magari tra qualche anno Che sono posto Mi aiuti A farlo Perché sono Felice Che lui abbia fatto Quello che ha fatto Quindi questo secondo me È il messaggio vero Che poi deve passare Tra social Mondo cash E quello che fate Che i social Sono una bellissima vetrina Di un negozio Fantastico In via Vittorio Emanuele Se tu non ti puoi permettere Quello che c'è dentro Non vali meno Della persona Che lo sta comprando dentro Un giorno ci arriverai Devi trovare il tuo modo E magari il giorno Che tu hai Sparo Mille euro Per comparti quella maglietta Sei lì per entrare Non la vuoi più Perché capirai Che quella roba lì In realtà Non è così importante Ognuno secondo me Deve trovare la sua strada Sia nel business Sia nei social Sia nella vita Perché io vedo Oggi Soprattutto Nel mondo Che state trattando adesso Unendo questi due mondi Cioè È per i ragazzini Per chi magari è giovane O magari non ha Una testa Diciamo Forte Che non tutti Hanno un carattere forte Questa roba qui È logorante Cioè dice Non ce la farò mai Io vivo a Empoli Non riuscirò mai A vivere a Milano Non avrò mai il contatto Non ce la farò mai Faccio questo lavoro Sarò schiavizzato Per tutta la vita Cioè è una roba che Psicologicamente Secondo me Schiaccia tante persone Quindi quello che vi dico È Prendete il meglio E elevatevi Se ce l'ho fatta io Che facevo Il pizzaiolo E la mia famiglia Stava fallendo Mi vesto da donna Su internet E non era neanche un lavoro Ce la potete fare Tranquillamente Anche voi Vi metto la mano Sul fuoco oggi Grazie Va bene Con questa perla Che veramente Veramente tanto Io ci tengo a fare I complimenti Da parte di tutti Perché veramente Grazie Conversazioni di spessore No è stato bello Anche lo scambio Perché io non volevo Attaccare chi viveva fuori Ma volevo far capire Il messaggio Che quelli che vivono fuori Che non sono come te Che fanno passare gli altri Per coglioni Sono proprio quelli Che non devono seguire Cioè non seguire Persone come te Che a 23 anni Si spaccano il culo E fanno quello che fanno Perché Raga Se c'è una legge Che ti dice Che li paghi poche tasse Sei furbo tu Ad andarci Senza farlo pesare agli altri Quindi lo scambio È anche bello Perché io ho detto Una cosa forte Ho detto Minchia quelli che vivono fuori Mi stanno tutti sul cazzo E tu hai detto Ah io vivo a Dubai E io poi allora Ho corretto il tiro Dicendo sì Però tu non mi stai Facendo pesare E quella roba lì Quindi anche lo scambio Di opinioni Secondo me All'interno di questi podcast È fondamentale Mi avete detto Che ne avete fatti un po' E io magari Vi ho appesantito Vi ho rotto i coglioni Vende molto più facilmente Ok Perché della storia Che io ho raccontato qui Potrei raccontarla Sui miei social Domani Piangendo Dicendo Mio Dio Aiutatemi No Cioè piuttosto Chiudo i social Vado a fare il pizzaiolo Che c'è molto più onore Che vivere di solo gossip Basta molte per le sto dicendo Basta Basta Ugaragantù Si scopa un voto Adesso chiudiamo le camere E lì Chiudiamo il body count Sai cosa è questa? No Cos'è Questa è la Fortune Ruota Praticamente Ci sono Sei circa sette spicchi Ok Tu adesso andrai a girare Videocall Adesso li leggiamo Adesso li leggiamo Non spoileriamo Ah scusami Scusami Non è che sono sempre così Non sono sempre quelli Cambiano per ogni ora La facciamo girare con la parrucca Hai la parrucca? Si ce l'ho Ne ho tre Nello zaino Yuri Prendilo tu Ce la posta la regia E questo? C'è il North Face Francesco Quello dietro Sì passo Grazie Francia Passatevelo tra di voi Regi Grazie Esatto vai Allora Ti spieghiamo cosa succederà Adesso Questa classica Che è tenente al biondo Perfetto Perfetto C'è anche il biondo C'è anche il biondo Il biondo che risalta anche in video Allora Vai Cosa succederà adesso? Tu andrai a girare la ruota Quello che esce Lo vincerà Eh? Ci credo che scopavi così Ma hai mai fatto senso con la parrucca? No lo sapevo Come lo chiedevi Me l'han chiesto Lo so raga Me l'han chiesto più volte Ho detto sempre no Perché comunque è una dignità persona Ha fatto così Ho detto sempre no Ho detto sempre no Con la parrucca ho detto sempre no Comunque Adesso girerai Spostiamo lo zaino Scusami Girerai Quello che esce Semplicemente un follower Che commenterà questo video Lo vincerà Ah ok Vincerà quello che esce Vincerà quello che esce Ok Quindi altrimenti girare forte Non troppo Questa non finisce più Vabbè mettiamoci come Vabbè 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 Non so se la mia fidanzata Sarà d'accordo Spero che commenti un ragazzo A un ragazzo A un ragazzo A un ragazzo Qualcuno che vuole donarmi Un milione di euro Ci sono Ok Sei disposto A donarmi un milione di euro Esatto Commenta qui sotto Commentaci sotto Gordon Grazie mille Il modo di finire così Che ralleggerire Adoro ci sta No Grazie a voi Scusate se magari sono stato un po' Assolutamente Troppo Focus Volevo Che insieme a un altro ospite Volevo dare un contenuto Sentirti per ore Vabbè Grazie Apprezzo molto In bocca al lupo Per tutto quello che fate Grazie Sulla strada giusta Grazie a Dio E in bocca al lupo A voi E anche a voi Che siete guardando Buttate Signore Ci vediamo nel prossimo episodio Mondocash Mondocash che è